buongiorno silvia è un piacere averla qua questa mattina per questo incontro in occasione della pasqua avevamo pensato di fare un comunicato agli studenti abbiamo innovato cercando di fare una comunicazione più diretta e viste la situazione pandemica parlare con lei che il presidente del consiglio degli studenti è come parlare con tutti gli studenti quindi la ringrazio di essere qui per questo colloquio per trattare gli argomenti che interessano gli studenti dello Strateneo che sono ovviamente il al centro del progetto dell'università e quindi mi piacerebbe che questo messaggio arrivasse direttamente a tutti voi essere qui mi permette di essere sia la voce degli studenti e sia la sua verso gli studenti infatti sono molto contenta di questo rapporto che si è creato dove riusciamo a parlare come persone e non come due istituzioni che si contrappongono quasi fossimo in guerra tra di noi ma cerchiamo appunto di collaborare tra di noi per il bene degli studenti e per garantire loro la miglior vita universitaria e la vita ad Urbino. Ho detto appunto che non ci devono essere barriere tra gli studenti e il rappresentante degli studenti e la governance perché abbiamo un obiettivo comune che è quello della formazione ai più alti livelli e quindi penso che stiamo facendo di tutto per raggiungere questo obiettivo e mi auguro che insieme riusciremo a raggiungerlo. Sono molto contenta di questo e concordo con lei infatti punto moltissimo sullo spirito di squadra e a questo proposito mi viene sempre in mente di un momento durante le elezioni in cui un ragazzo si è avvicinato a me e mi ha detto ma per chi devo votare io non vi conosco e gli ho risposto vota per me io farò di tutto per risolvere i tuoi problemi. Qualche mese dopo non ha perso l'occasione e mi ha ricontattato dicendomi quali fossero i suoi problemi in questo caso riguardava l'aggiunta di un terzo appello e ha detto io farò di tutto per poterti aiutare e fortunatamente ci sono riuscita e lui mi ha mandato un messaggio che mi ha fatto particolarmente commuovere in cui mi ha detto grazie a te io potrò laurearmi non so veramente come ringraziarvi sono emozionato ringrazio a te ringrazio te e tutta la tua squadra e questo spirito di squadra io cerco di riportarlo appunto all'interno del mio team il mio team comprese anche le paritetiche perché anche grazie a loro che abbiamo ottenuto questo importante risultato quindi il rapporto che abbiamo con lei questo fare squadra assieme per me è davvero molto importante. Stiamo vivendo un momento molto particolare in questa emergenza sanitaria che ormai ci colpisce da oltre un anno lo so che lei non ha la sfera di cristallo e che purtroppo non possiamo prevedere neanche da qui una settimana cosa succederà ma mi piacerebbe davvero sapere se è possibile tornare in presenza o se questo sarà mai possibile entro la fine dell'anno accademico piacerebbe saperlo anche a me perché anche tutti noi docenti non vediamo l'ora di tornare in presenza ovviamente queste decisioni dipendono da regolamenti decreti ordinanze che vengono prese sia a livello nazionale che a livello regionale noi quello che cercheremo di fare come abbiamo già detto in altre occasioni di lasciare una porta aperta per nel caso in cui le condizioni generali lo permettessero di rientrare in aula in presenza prima della fine dell'anno accademico diciamo che un elemento importante è questo piano vaccinale che è stato iniziato con più decisione negli ultimi giorni che potrebbe portare a condizioni migliori nelle prossime settimane nei prossimi mesi mi dispiace che al momento non siamo riusciti a includere gli studenti nel piano vaccinale regionale i rettori delle quattro università avevano chiesto al presidente della regione di includere tutti gli studenti perché quella sarebbe stata l'unica strada per raggiungere l'obiettivo che del rientro in in aula in presenza sicuramente quello che abbiamo fatto è anche cercare di venire incontro alle vostre esigenze ad esempio abbiamo anche sulla base ovviamente di un decreto nazionale di avere una sessione straordinaria per laurearsi entro il 15 giugno e quindi evitare che chi non era riuscito a laurearsi nei tempi tradizionali cioè in questo periodo di marzo possa concludere l'anno accademico senza pagare le tasse entro giugno quindi sarà un obiettivo della governance cercare di tornare in presenza nel frattempo abbiamo fatto degli investimenti sia per quanto riguarda le tecnologie nelle varie aule per poter avere una didattica in presenza e a distanza all'avanguardia ma nel contempo abbiamo fatto degli investimenti più tradizionali cioè stiamo investendo su delle nuove aule con capienza fino a 250 posti che sono le aule che abbiamo notato in questi anni mancano all'ateneo e che quindi completandoli in tempi brevi come speriamo possono mettere tutti gli studenti di partecipare di nuovo alla lezione in presenza a partire dal prossimo anno accademico. Sono felicissima di aprendere queste bellissime notizie soprattutto che abbiate accolto di buon grado la proroga dell'anno accademico che era una delle nostre proposte a cui tenevamo di più e di cui anche gli studenti sono molto felici e insieme a questo un'altra grande vittoria che abbiamo raggiunto in meno di due mesi è l'aggiunto dell'articolo 28 che tratta appunto dei disturbi specifici dell'apprendimento aggiunto al regolamento didattico di ateneo. Questa per noi è una grandissima conquista in quanto sensibilizza l'ateneo e si fa portatore di una problematica ancora poco trattata all'interno dell'università. È vero, gli organi di governo hanno accolto molto favorevolmente l'inclusione di questo riferimento ai DSA anche nel regolamento degli studenti ed inoltre sono anche a conoscenza di una collaborazione tra docenti dell'ateneo del Dipartimento di Giurisprudenza e rappresentanti degli studenti per discutere il tema del voto a distanza per gli studenti fuori sede. La proposta del voto fuori sede per noi è molto importante. Parlo in prima persona perché io studio in Italia, mio fratello ha sempre studiato all'estero e ha sempre potuto esercitare il diritto di voto. Io invece ho visto mancare questo mio diritto ma anche il dovere. Infatti sono molto contenta che una delle ragazze della mia squadra stia portando avanti con tanto fervore questa proposta e assieme al CNSU speriamo di poterla presentare presto in cancelleria e farla diventare realtà quanto prima. Io sono convinto che come tutte le buone idee o le idee intelligenti anche questa del voto a distanza possa essere accolta a livello nazionale perché ripeto tra l'altro è un intervento a costo zero sostanzialmente per il governo quindi non vedo perché non possa essere accolta quindi mi auguro e per quello che potrò sicuramente sosterrò questa iniziativa all'interno della CRUI che è la conferenza nazionale dei rettori dell'Università italiana. E poi c'è l'argomento spinoso delle tasse rettore. Sono contenta di vedere da parte sua una grandissima predisposizione a non lasciare che questa nostra proposta rimanga soltanto sulla carta. Noi abbiamo proposto un sistema contributivo che non ragione più per fasce di reddito ma proporzionalmente all'ISE degli studenti. Ovviamente spero che questa nostra proposta si possa realizzare ma intanto sono molto contenta che gli organi di Ateneo stiano già lavorando in merito e valutando la fattibilità di questo. Riguardo al progetto di cambiare lo schema sulla base del quale vengono fissate le tasse universitarie ho già dato la mia disponibilità insieme a quella della direzione generale a costituire un gruppo di lavoro per valutarne la fattibilità tenendo conto che noi in qualche modo dobbiamo sempre rispondere a degli organi di controllo economico finanziario e amministrativo. Però io spero e metterò tutta la mia volontà nel portare avanti questo progetto e quindi di farvi sapere quanto prima i risultati del gruppo di lavoro. Queste vostre proposte sono tutte proposte che guardano al futuro. Siete voi gli artefici del vostro futuro ma sappiate che in questo percorso l'Ateneo vi accompagnerà sempre oggi e anche nei prossimi anni perché in qualche modo come abbiamo visto con i tanti laureati che spesso ci scrivono per ricordare il periodo che hanno attraversato e vissuto all'università ci saremo anche per accompagnarvi nel mondo lavorativo nei prossimi anni. Si stanno di nuovo avvicinando le festività pasquali e quindi è il momento dei saluti e degli auguri pasquali che faccio a te e tramite te a tutti gli studenti e le studentesse dell'Ateneo di Urbino con l'augurio soprattutto di ritrovarci presto di nuovo ad Urbino per poter riprendere la didattica almeno parzialmente in presenza. Grazie a tutti e buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie.